Autorità nostra apostolica, Facultate Facimus, utu venerabile servidei, Enricus Angelus Angerelli Carletti, Episcopus Rioiensis, Gabriel Iosefus Rogerus Longville, Presbiter Diocesanus, Carolus Adeo Murias, Presbiter Professus, eges ordene fratrum minorum conventuarium, et venceres laus, veder nera, pater familias, martires, fideles criste discipuli, insignes, testes eius, regni, justitie, ete caritatis. Deatorum, nomine, imposterum, aper lentum, atti que die decima septca menses iuli, quotanes in locis, ete modis iure statutis celebrari possinti. In nomine Patris, ete Fili, ete Spiritus Sancti, Amen. Datum Rome, aptus sanctum Petrum, die vicesimo settimo mensis marcis, anno dominis, vismillesimo, unde vicesimos, pontificatis nostre settimo, Franciscus Papa. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.